buongiorno a tutti io sono letizia e benvenuti sulla biblioteca nel bosco mi vedete in questa posizione un po particolare perché oggi faremo insieme la mia tier list del 2023 quindi classificheremo tutti i libri che ho letto nel 2023 insieme ora io per fare questo video devo attingere a tutte le mie abilità tecnologiche perché sono cionpissima io a fare queste cose quindi io spero che riesca non prometto niente però perché veramente c'è da farsi il segno della croce per sperare che il tutto riesca come deve riuscire quindi mi metterò in un angolino dello schermo non so bene dove e cercherò di mostrarvi lo schermo del mio computer se riesco a capire come si registra avevo trovato l'impostazione tempo fa allora shift command e 5 o eccoci qua allora questo segnetto qui vuol dire che in teoria sta registrando lo schermo qui è tutto collegato o addirittura collegato internet al mio telefono perché ogni tanto la connessione va e viene quindi dovrebbe esserci tutto allora questi sono tutti i libri che io ho letto quest'anno sono un po non ho segnato tutti i libri per esempio di black water eccetera eccetera non ho messo uno per rappresentanza perché essendo delle saghe niente l'ho raggruppato tutto insieme compreso anche something is killing the children che ora qui non vedo però da qualche parte ci deve essere dove eccetera 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 quindi insomma per queste cose ho raggruppato semplicemente tutta la serie di libri che ho letto in un unico volume che è il primo le categorie sono top della vita quindi quei libri che sono entrati a far parte dei miei preferitissimi bellissimo quei libri che ho effettivamente apprezzato tanto non sono tra i top della vita ma sono sicuramente dei libri che sono felicissima di aver letto che consiglio molto molto volentieri bello quei libri belli quei libri che sono stati una piacevole lettura ma che comunque sia non sono stati niente di eccezionale semplicemente delle cose belle piacevoli da leggere è ok che è quella categoria un po' tiepida quella che non ti fa la differenza cioè aver letto meno quel libro non mi ha cambiato la vita quindi va bene non sei tu sono io allora questa è una categoria che ho deciso di inserire perché ci sono dei libri che io ho effettivamente letto che riconosco di essere io il problema cioè o li ho letti nel momento sbagliato o ho letto proprio una cosa che non poteva piacermi a prescindere quindi riconosco che non è stato un problema del libro in sé ma sono io che non sono la persona giusta per apprezzare quel libro e poi no maria io esco io do sempre i nomi un po' strani a quei libri che non mi piacciono no maria io esco sono quei libri che proprio allora anche se a prescindere in generale ogni libro è soggetto a un'opinione personale soggettiva io non riesco proprio a capire come un libro del genere possa piacere e non per come dire perché io capisco tutto dalla vita per il semplice fatto che proprio io non sono riuscita a trovare cose positive all'interno di quel libro e quindi diciamo che queste sono le due categorie che per me sono bocciate ma in un certo caso ho capito che ci sono delle cose comunque apprezzabili in quel libro e nell'altro invece io non trovo pregi semplicemente allora qua vedo che ha inserito i libri un po' in disordine quindi meglio così andiamo random allora partiamo con la macchia umana di philip rot un libro che io metterei in bellissimo perché effettivamente è stata una lettura estremamente interessante anche se complicata potevo metterlo anche in bello diciamo che se lo mettevo in bello era proprio agli inizi oppure alla fine di bellissimo poi vedremo quando avremo tutta la lista lì devo dire che però è una lettura che vorrei rifare per approfondire soprattutto perché la voglio fare sul cartaccio perché avendo trovato difficoltà nella lettura ero passata all'audiolibro e ci sono però tante cose che io vorrei sottolineare all'interno di questo libro ora purtroppo non riesco a farvi vedere tutto la scritta di philip rot appunto la macchia umana perché questo programma inserisce le copertine quadrate quindi non se può fare però fidatevi è la macchia umana di philip rot la paziente silenziosa un libro che ho letto il mese scorso e che mi è piaciuto molto quindi lo metto anche questo in bellissimo però lo vorrei mettere lo metto sicuramente prima di la macchia umana perché mi è piaciuto decisamente di più un thriller di una donna che non parla e di uno psicologo che si occupa del suo caso e che decide appunto di farla parlare finalmente dopo anni e anni di mutismo e mi è piaciuto Fobia Fobia, no Maria, io esco è un libro di Wolf Dorn che io ho già trovato ed apprezzato in realtà in un altro suo libro che poi vedrete qui ma questo proprio no, c'è una storia che partiva benissimo poi invece la parte interessante si conclude subito e passa a una storia banalissima e secondo me anche senza senso sotto molti punti di vista anzi anche cruda in certi casi, inutilmente crude, è stato come se verso il finale Wolf Dorn ci avesse voluto infilare roba cruenta per rendere il libro più interessante ma alla fine non c'entrava niente, cioè quella cosa non avrebbe risollevato il libro Ah ovviamente all'interno di questo video non vi farò recensioni troppo precise perché sennò ci mettiamo una vita e mezzo quindi se volete vedere le recensioni vi rimando qua sotto all'infobox, vi scrivo il wrap up, il link del wrap up del mese corrispondente e sotto tutti i libri che ho recensito in quel wrap up sapete che io metto sempre l'indice in tutti i miei video quindi se appunto vedete il titolo corrispondente del libro di cui volete vedere la recensione sotto un wrap up di un mese cliccate quel link e poi nell'indice di quel video trovate la recensione, il minutaggio della recensione di quel video a me non piace far perdere tempo alle persone quindi cerco di essere sempre molto precisa su quello così potete vedervi tutte le recensioni che vi interessano di più senza perdere troppo tempo poi la psicologa di B.A. Paris lo metto in bello è stato un thriller che io ho letto praticamente quasi in contemporanea alla paziente silenziosa o meglio non mi ricordo quale dei due ho letto prima, li ho ascoltati entrambi in audiolibro nella psicologa devo dire che lo svolgimento della vicenda è stato un pochino più prevedibile solo verso la fine c'erano dei dettagli un pochino più inediti e carini però nel complesso mi è piaciuto sicuramente di più la paziente silenziosa però è un libro comunque carino Flatlandia Flatlandia sono indecisa tra bello e bellissimo perché effettivamente è un libro che mi ha colpito molto per l'originalità lo metto in bellissimo è stato un libro molto originale che consiglierei tranquillamente a occhi chiusi ed è stata una lettura anche abbastanza veloce l'ho ascoltata tipo in due giorni in audiolibro ma devo dire che anche Letta è molto interessante è un fantasy che parla di delle figure geometriche bidimensionali che scoprono l'esistenza del mondo tridimensionale ovviamente ci sono dei messaggi all'interno di questo libro che poi ci riportano alla nostra realtà utilizzando delle figure di fantasia l'impostore l'impostore ci metto non sei tu, sono io perché? è un libro che io effettivamente ho messo nei bocciati ma lo ho messo nei bocciati con riserva in quanto l'impostore è un libro che parla appunto di uno scambio di persona il problema per me è stato che però questo scambio di persona non viene portato fino alla fine del romanzo ma si svela a metà per poi passare a un'altra vicenda più avventurosa ora, il libro non è brutto però riconosco che io non ho apprezzato questo fatto cioè il fatto che non si porti questa cosa fino alla fine quindi è un problema mio però so che a molti infatti è piaciuto Labirinti top della vita Frank Tillier uno dei thriller più belli che io abbia mai letto e riconosco che rispetto anche al manoscritto e c'era due volte che sono comunque gli altri libri della trilogia Labirinti è l'ultimo scritto da Tillier che comunque è praticamente la spiegazione finale di tutti i libri precedenti può essere effettivamente letto da solo senza grossi problemi il finale vi spiazzerà comunque come ti spiazzati lì e con i finali veramente nessuno mai e questo è diventato immancabilmente uno dei miei libri thriller preferiti assolutamente Banana Yoshimoto Kitchen bello devo dire che è stato un libro molto toccante parla di lutto ci sono due storie abbastanza carine devo dire che Kitchen è la prima è quella che ho apprezzata di più però niente carino ZO ZO lo metto in bellissimo di Paola Barbato lo metto prima della macchia umana e anche prima di c'è un problema io non riesco a spostare ah ok e anche prima di Flatlandia perché effettivamente è una storia thriller molto molto intrigante una storia di sopravvivenza in una condizione in cui nessun essere umano si vorrebbe mai trovarsi nella sua vita e praticamente questo dovrebbe essere il secondo anche qua di una trilogia che inizia con io so chi sei che già che è qui lo posiziono però io so chi sei lo metterei in è ok nel senso che l'ho trovato molto più prolisso vediamo molti personaggi che rivediamo in ZO però questi libri in realtà possono essere letti in contemporanea nel senso che è praticamente lo stesso periodo ma praticamente la vicenda si svolge in due luoghi diversi quindi noi ritroviamo alcuni personaggi di ZO in io so chi sei sono che in io so chi sei non si sa bene che cosa gli è successo in ZO invece lo sai io ho letto prima ZO quindi ho in realtà invertito l'ordine ma ammetto di essere stata riconoscente per questa cosa perché ZO secondo me è stato quello che mi ha portato a leggere gli altri libri se io avessi letto per prima io so chi sei probabilmente non avrei letto gli altri e il terzo già che ci sono lo cerco così almeno concludo vengo a prenderti momento lo posiziono in bello perché anche questo secondo me non è ai livelli di ZO però è sicuramente meglio di io so chi sei quindi l'ordine giusto è io so chi sei ZO e vengo a prenderti ma il mio ordine di gradimento è questo George Orwell la fattoria degli animali bellissimo mi è piaciuto tanto effettivamente è una storia che spiega molto bene come funziona la nostra società in maniera molto semplice ma molto forte secondo me che cosa fa la gente tutto il giorno? onestamente io questo libro non l'ho capito però lo metto in non sei tu sono io perché effettivamente è una raccolta di racconti che comprendo un po' sta piacere ad alcune persone io stesso ho apprezzato tantissimo la scrittura di Peter Cameron che ho conosciuto attraverso questo romanzo però il fatto che non mi è piaciuto è che le storie finiscano in un niente cioè non c'è una vera conclusione delle storie e a me le storie che non concludono non piacciono quindi no io e te di Amaniti lo metto in bello perché è stata una storia carina la storia di un ragazzo che non vuole socializzare che si inventa questa settimana bianca con gli amici per trascorrere una settimana in cantina praticamente e che però si ritroverà ad avere a che fare con la sorella la sorellastra che gli scombinerà un po' i piani la vita prima dell'uomo di Margaret Atwood una grandissima delusione anche qui il mio problema è stato che praticamente il libro non finiva cioè nel senso non so bene se metterlo in non sei tu sono io no Maria io esco perché in realtà non è stata una lettura sgradevole però ci sono delle cose in particolare che io non ho apprezzato tipo il fatto che i personaggi principali per la maggior parte dei casi sono molto molto deboli a livello caratteriale il fatto che non ci siano dialoghi sono delle cose che a me sono mancate però magari ad altri no quindi lo metto qua sirene sirene lo metto sono indecisa se metterlo tra bello e bellissimo perché secondo me la storia è stata sviluppata molto bene secondo me va in bellissimo perché rispetto a questi mi è piaciuto molto di più sì una storia molto cruda molto violenta di appunto sirene che vengono utilizzate in svariati modi come carne come alimento perché sono mezzi animali ma anche come strumenti sessuali perché sono per metà di sembianze femminili insomma tutto quello che potrebbe fare un essere umano a un altro essere vivente gli viene fatto a queste povere creature sono di murakami sono di murakami sono indecisa perché a me la storia non è che non è dispiaciuta però diciamo che è ok ci sono state delle cose che non mi hanno fatto impazzire tipo anche qua un finale secondo me un po' senza senso è una storia di una donna che smette di dormire ma che in realtà grazie a questa mancanza di sonno riesce a riportare in auge nella sua vita una sua grande passione che è la lettura quindi questa cosa l'ho apprezzata molto il finale mi ha lasciato un po' così cioè non ho capito dove voleva andare a parare murakami ma da quel che ho capito avendo letto altri libri di murakami è una cosa che fa la lunga marcia di steven king ecco ora andiamo nel difficile perché quando si parla di steven king io non riesco a paragonare i libri suoi a tutti gli altri ma paragono i libri di steven king con altri di steven king quindi per me la lunga marcia va comunque in bellissimo nel senso che steven king è riuscito a creare una storia estremamente avvincente interessante però ambientandola in una situazione assolutamente monotola cioè tu assisti a delle persone che camminano fino letteralmente alla morte e analizzando la psicologia dei personaggi e il loro passato però steven king riesce a creare una storia molto avvincente quindi per me è bellissimo mi è piaciuto tanto se lo dovessi però catalogare con altri libri che ho letto di steven king indubbiamente non andrebbe in bellissimo cioè hai capito quello che voglio dire ecco però rispetto agli altri è bellissimo anche una stanza piena di gente una stanza piena di gente lo metto qua perché è un libro che mi è piaciuto tantissimo il reportage della storia di billy milligan fatto da daniel keys anche questo l'ho recensito nell'ultimo wrap up e mi è piaciuto tanto shining anche qua di steven king allora io shining lo paragono sempre sempre a it perché per me è un gradino sotto però rispetto a quelli che ho letto quest'anno indubbiamente mi va in top della vita l'incubo di hill house di shirley jackson è ok lo metto in è ok però all'inizio perché comunque sia è una storia da cui mi aspettavo di più ma da cui sapevo dovevo aspettarmi di meno non so come altro dire nel senso che la storia di hill house è famosissima soprattutto per la serie netflix però non c'entra niente la serie netflix con il libro più che infatti una storia di fantasmi la definirei una storia di follia ecco quindi mi ha lasciato un po' tiepida però la scrittura della jackson in un modo o nell'altro secondo me va premiata perché è meravigliosa allora non c'è scritto il titolo però dalla faccia riconoscerete subito che cos'è una vita come tante di anayana ghiara top della vita top della vita mi è piaciuto veramente tantissimo una storia di sofferenza perdonatemi se continuo a fare su e giù ma è una cosa che faccio sempre al computer e non riesco a smettere di farla quindi perdonate se ogni tanto mettete lo schermo a muoversi ma è colpa mia allora è una storia di sofferenza indubbiamente ma secondo me molto reale nel senso che purtroppo le cose che vengono fatte a giù sono cose reali sono cose che succedono è inutile che ci tappiamo gli occhi non che a me piaccia leggere della sofferenza altrui però devo dire che la storia che ha sviluppato Anayana Ghiari al modo in cui ci ha fatto affezionare al personaggio è veramente da ammirare e da lodare io ancora ci penso a questo libro e fate conto che l'ho letto d'agosto se inizia fosse un narvalo di Justin Gregg lo metto in bellissimo un saggio della bocca edizioni assolutamente illuminante che ci mostra come ragiona il cervello umano in confronto a quello animale ed è il perché noi esseri umani siamo più soggetti a depressioni queste cose qui e anche a desideri di morte possiamo dire così proprio perché appunto è il nostro cervello che ci porta a ragionare in un certo modo bellissimo bim bum 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 che tamina di claudia grande allora mi è piaciuto non so se metterlo in bellissimo verso la fine o in bello perché effettivamente ci sono dei capitoletti che ho trovato un po' noiosi però in generale devo dire che è stata una lettura molto piacevole lo metto in bello lo metto in bello però all'inizio i terrestri di Murata Sayaka rivelazione dell'anno e della vita quindi assolutamente in top della vita il modo in cui Murata Sayaka ci ha portato attraverso la vita di una giovane ragazza che non si sente accettata e non riesce a omologarsi nel mondo che la circonda è veramente meraviglioso c'è Lallo che ha un momento di crisi perché vuole uscire nel terrazzo ma amore mio c'è bagnato e quindi non si può comunque dicevo al contrario di quello che potrebbe sembrare dalla copertina è un libro molto molto crudo però secondo me merita una lettura se appunto non siete troppo sensibili ok ho fatto un breve check e qua sembrerebbe che stia andando tutto bene quindi continuiamo Notre Dame de Paris di Victor Hugo bellissimo un classico che mi è piaciuto molto poi vabbè con le illustrazioni di Benjamin Lacombe cosa ve lo dico a fare un libro bellissimo non me lo aspettavo pensavo che mi avrebbe annoiato come classico ma devo dire che la vera storia quella originale di Esmeralda e Quasimodo mi è piaciuta un sacco la ragazza del treno la ragazza del treno di Paula Hawkins lo metto in ok perché è un thriller che riconosco non sia esattamente nelle mie corde per il fatto che ormai sono abituata a dei thriller più intricati questo è diventato famoso tanti anni fa e quindi ci sta che ora abbia perso un po' del suo smalto ecco possiamo dire così L'invenzione di noi due di Matteo Bussola bellissimo un libro bellissimo che ho messo anche nei preferiti perché parla di una situazione coniugale assolutamente comune in maniera molto tenera io sto leggendo in questo momento un altro libro di Matteo Bussola e devo dire che mi piace molto come scrive Jeanette McCardy sono contenta che mia mamma è morta anche questo bellissimo un libro che parla appunto della vita di Jeanette McCardy che è una ragazza che è diventata famosa grazie ad iCarly e insomma del suo rapporto soprattutto con la madre che vuole a tutti i costi che lei diventi un'attrice e quindi ci racconta della sua vita fin dalla sua giovane età ed è un po' come sentire parlare un'amica effettivamente mi è piaciuto molto il suo modo di scrivere anche perché l'ha scritto lei effettivamente il libro non c'è un ghostwriter dietro perché lei ha sempre voluto fare la scrittrice e il titolo riprende proprio il fatto che è riuscita a come dire cambiare la sua vita dopo che sua mamma è morta perché appunto non ha più avuto la sua ombra sopra di lei ma comunque si apporta degli strascichi di quella che è stata la sua vita abbastanza traumatica George Orwell 1984 un libro che mi ha scioccato e che metto in top della vita non l'ho messo nei preferiti perché credo che mettere un libro come questo nei preferiti sia un po' scontato per il semplice fatto che è un libro fatto per scioccarci ed effettivamente è così poi se guardiamo il fatto che sia un libro scritto nel 48 e di come molte cose si siano effettivamente realizzate è veramente inquietante quindi è un libro che mi è piaciuto molto lo metto in top della vita ma non l'ho citato nei preferiti perché ripeto credo che sia scontato citare un libro del genere Tutto quello che so sull'amore di Dolly Alderton bello un bel libro lo metto anche abbastanza all'inizio un po' alla pari con Chetamina è stata una lettura divertente una lettura intrattenente che sono contenta di aver fatto mi ha divertito Ida mi re di tutti lo metto in bello di Luca Briasco purtroppo per quanto mi riguarda molti aneddoti che ha detto che ha raccontato Luca Briasco che è poi il traduttore ufficiale attuale di Stephen King ha tradotto se non erro una decina di libri suoi li conoscevo già perché io già ho avuto modo di leggere altri libri su Stephen King quindi niente lo metto in bello perché non ho letto essenzialmente nulla di nuovo ma è stato carino comunque l'ho ascoltato in audiolibro si ascolta veramente in qualche ora poi La ragazza che viene dal buio di Malcolm Robotham allora è un libro che mi è piaciuto molto però mi è piaciuto più il primo lo metto in bellissimo perché effettivamente la storia è stata molto accattivante è un thriller che praticamente ci vuole raccontare la vita di una giovane ragazza all'inizio ci porta ecco volevo prendere anche il secondo che metto qua lo metto prima perché il primo racconta di come uno psicologo faccia la conoscenza con una ragazza da un passato molto molto traumatico passato di cui in realtà non si sa nulla perché la ragazza non ne parla però si ritroveranno ad affrontare insieme un altro delitto che non torna ecco ci sono delle cose che non tornano e questa ragazza lo aiuterà perché ha una capacità particolare di riconoscere quando le persone mentono nel secondo invece veniamo a scoprire effettivamente la vita di questa ragazza ora a livello di thriller sicuramente preferisco Thillier motivo per cui io l'avevo recensito in maniera entusiasta ma non avevo ancora effettivamente letto il manoscritto e compagnia bella però devo dire che lo metto in bellissimo perché mi è piaciuto veramente tanto come thriller anzi lo metto in bellissimo questo lo metto qua e questo lo metto se vogliamo dare un ordine più o meno ci siamo anche contrappasso di Andrea De Logu lo metto in bellissimo e lo metto qua contrappasso è un distopico in cui la vita degli esseri umani è strettamente legata a quella degli animali quindi un essere umano muore nello stesso modo in cui uccide un animale anche gli insetti anche per mangiarli eccetera eccetera quindi è un ribaltamento della situazione in cui gli animali hanno un potere nei confronti dell'essere umano è un libro che mi è piaciuto molto Andrea De Logu è stata molto brava ci sono state delle cose devo dire verso la fine che erano un po' esagerate secondo me cioè avrei apprezzato di più il libro se non fosse arrivata fino a quel punto però in generale la storia mi è piaciuta molto Le otto montagne di Paolo Cognetti non sei tu sono io non sei tu sono io perché la scrittura di Cognetti mi è piaciuta tantissimo un canto alla montagna meraviglioso ma la storia utilizzata per raccontare questa vicenda ai protagonisti non mi ha fatto impazzire The Stand l'ombra dello scorpione di Stephen King io lo metterei in è ok perché sinceramente ho fatto una fatica assurda a leggerlo e non ve ne sto a parlare troppo perché se no mi perdo perché io con questo libro ho proprio un astio perché ci ho messo veramente anni e anni per leggerlo perché l'ho iniziato quattro volte finalmente sono riuscita a terminarlo è inutile dire che non lo leggerò mai più ma proprio mai più ce l'ho letto proprio per fare check ok l'ho letto ma basta però è una bella storia ci sono state delle cose che a me proprio non sono piaciute tra cui troppo prolisso cioè se avete letto alcuni libri di Stephen King e avete trovato quei libri prolissi con questo veramente si superano dei livelli inimmaginabili come uccidere la tua famiglia anche qua lo metto in è ok mi aspettavo di più da questo libro ci hanno fatto tantissima pubblicità secondo me ce l'hanno fatta troppa il finale mi ha deluso molto il mio cuore cattivo il mio cuore è cattivo boh lo metto in è bello verso l'inizio sì dai è bello è Wolf Dorn questo è questo è l'altro libro di Wolf Dorn che ho letto oltre fobia questo però mi è piaciuto è anche questo un thriller psicologico molto molto carino Blackwater Blackwater io sono indecisa se metterlo tra bello e bellissimo nel senso che secondo me è una saga veramente molto molto interessante molto intrattenente io ho alternato la lettura con l'audiolibro e ho apprezzato la storia in entrambi i modi però devo dire che l'ho apprezzata molto di più in audiolibro perché non è una storia tanto complicata è una storia familiare con dei risvolti horror gotici e devo dire che cioè ora come ora se la dovessi consigliare la consiglierei da lettura da audiolibro da ascoltare magari nel mentre che si fanno le faccende di casa quindi non lo so lo metto in bello all'inizio sì rispetto a questi libri qua sì decisamente sì ci sono state poi ovviamente dei libri di questa saga che ce ne sono sei appunto che mi sono piaciuti di più altri che mi sono piaciuti di meno quindi nel complesso bello non lasciarmi di Shiguro lo metto in ok perché a me non è piaciuto cioè non è che non è piaciuto la storia in sé mi è anche intrattenuto però mi aspettavo molto di più da un premio nobel se non erro la storia tratta di androidi Shiguro ci tiene a volerci fare empatizzare con i personaggi ma con me non ce l'ha fatta quindi non lo metto in non sei tu sono io perché secondo me non solo merita cioè comunque è stata una bella storia aveva un senso tutto quello che ci racconta è Shiguro però più di è ok non posso dargli ora passiamo a un fumetto something is killing the children assolutamente top della vita lo metto qua allora questo è un top della vita per gusto puramente personale è praticamente una storia alla baffila ammazza vampiri io ho letto i sei volumi usciti in Italia perché purtroppo non ne sono usciti di più al momento ma devo dire che mi sono piaciuti tutti una ragazza bionda cazzutissima che ammazza mostri che appunto uccidono bambini quindi veramente bello 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 poi parliamo delle illustrazioni meravigliose ne ho messo uno per rappresentanza perché secondo me sono più o meno tutti alla pari tutti top della vita io non vedo l'ora che escano i prossimi perché è veramente bellissimo poi la meccanica del cuore non mi ricordo di chi è ma vabbè lo metto in bello più o meno siamo sì qua né una storia davvero molto tenera di un ragazzo che ha un orologio a cucù al posto del cuore e che quindi deve stare attento alle emozioni forti perché se no rischia di morire però si innamora una storia molto tenera che mi è piaciuta la scuola di pizza in faccia del professor calcare bello lo metterei qua non è uno dei fumetti di calcare che preferisco sono onestra le sorelle e ollo le sorelle e ollo lo metto in bellissimo al primo posto è una storia fantasy dark con un mistero sotto che mi è piaciuto molto come ci metto anche l'occhio del gufo di Andrea Butini lo metto qua lo metto qua al secondo posto solo per il fatto che è il primo libro di una saga quindi non avendo letto i successivi non saprei bene appunto darvi un'opinione finale il secondo è già uscito oltretutto infatti lo voglio acquistare ma magari aspetto il mese di febbraio e il terzo invece deve uscire ma uscirà comunque quest'anno bello una bella storia fantasy anche qua con un mistero sotto molto cupa mi è piaciuto sicuramente non un young adult perché ci sono delle scene molto molto forti gli unici indiani buoni allora questo libro lo metto in non sei tu sono io perché è un thriller che onestamente non mi ha fatto impazzire per il semplice fatto che anche se la storia è interessante perché parla di degli indiani che vengono essenzialmente perseguitati da un animale mannaro si può dire così non dico lupo mannaro perché non è un lupo c'è troppo basket all'interno di questo libro io che non sono un'appassionata non ho apprezzato selvaggia un fumetto lo metto in bello è una storia che mi è piaciuta il finale è un po' così perché l'autrice probabilmente non ha voluto concludere questa storia come le classiche favole però è una cosa che ho apprezzato allora qui Igenia dell'assassino di Amelino Tomb allora mi ha sconvolto questo libro quindi devo dire che sono indecisa tra top della vita è bellissimo però lo metterei in bellissimo all'inizio proprio perché è stato un libro che mi ha fatto conoscere l'autombe ma che mi è piaciuto veramente tantissimo un finale veramente inaspettato poi il ragazzo del cimitero il cimitero senza lapidi perché ci hanno cambiato il titolo quando ho guardato ho cercato il ragazzo del cimitero vabbè è una storia di Neil Gaiman io ce l'ho con il nome il ragazzo del cimitero e lo metto in bello è stata una storia carina dove lo infilo lo infilo qua dai sì carino allora oddio come si chiama questo non mi viene il nome allora lo metto in bello è ok manuale di caccia e pesca per ragazze ecco non mi veniva il nome lo metto in ok qua è stato un libro molto divertente che parla della storia di questa ragazza peccato che il manuale di caccia e pesca per ragazze diciamo che si vede più alla fine ed è infatti la parte che mi è piaciuto di più del libro è un libro molto breve sicché però il giardino segreto lo metto in bello lo metto in bello è una storia che mi è piaciuta poi io l'ho letto in questa edizione Mina Lima con delle bellissime illustrazioni mi è piaciuto molto come metto in bello Anatomy una storia d'amore molto carino una storia di indipendenza femminile abbinata a una storia d'amore come sapete io non amo per nulla i romance ma in questo caso la percentuale di romanticismo è adeguata alla mia persona ecco non ha stonato perché la storia principale appunto era un'altra so che oltretutto è il primo deve uscire il secondo e forse uscirà quest'anno e sicuramente lo comprerò sono anche indecisa se metterlo in bellissimo vi dico la verità ma non lo so perché alla fine l'ho letto con molta voglia vi dico la verità facciamo che lo metto in bellissimo anzi all'ultimo bellissimo all'ultimo sì perché mi è piaciuto di più di tutti questi effettivamente sì lo metto in bellissimo ma all'ultimo la casa in fondo a Needless Street bellissimo e lo infilo lo infilo qua un thriller oserei dire sconvolgente cioè mi ha sconvolto leggere questo thriller effettivamente è un thriller che praticamente ci racconta una storia attraverso punti di vista diversi sconvolgendoci sul finale molto molto bello la faglia delle fate la faglia delle fate è un illustrato che io metterei in bello all'inizio perché è veramente bello esteticamente però non ci racconta una storia quindi se dovessi guardare solo le illustrazioni lo metterei in bellissimo però lo metto in bello perché mi rendo conto che è un libro che probabilmente non leggerò mai più e che magari semplicemente sfoglierò perché praticamente sono delle illustrazioni di degli esseri fatati e praticamente la descrizione di questi esseri nulla di più i fiori sopra l'inferno lo metto in bello lo metto in bello qua è un giallo investigativo di un un caso avvenuto in Friuli questo è un libro di Ilaria Tutti ci hanno fatto pure una serie se non erro mi è piaciuto comunque sia strano perché io le storie dove ci sono la polizia eccetera eccetera che indagano non mi piacciono la protagonista devo dire che è però è molto interessante quanti ne mancano dai siamo quasi alla fine allora no vabbè quasi alla fine non esageriamo speriamo di farci stare tutto più che altro allora Bambi top della vita dove lo infilo lo infilo qua io non mi aspettavo che Bambi fosse così bello vi dico la verità ma è una storia veramente bella poi questo libro con queste illustrazioni di Lacombe lo rende veramente magico una ragazza l'ha comprato o meglio se l'ha fatto regalare e mi ha detto che lo sta leggendo e anche lei è rimasta stupefatta dategli una chance veramente io non me lo aspettavo anche perché non è la tipica fiaba è proprio un romanzo io mi aspettavo che fosse più fiaba tipo appunto la sirenetta la sirenetta io comunque lo metto questo qui di Mina lì ma lo metto in bello alla fine perché le storie che poi ho letto dopo non è che mi hanno poi più di tanto colpito ecco c'è poi l'edizione di Lacombe che vabbè è uno spettacolo ma quello è un altro discorso però questo Bambi veramente è da leggere secondo me Quaidan di Lefcardio Hearn lo metto in non sei tu sono io io non sono la persona adatta a leggere questo genere di storie perché io apprezzo molto di più le storie di fantasmi nude e crude queste giapponesi non sono affine ai miei gusti c'era due volte di Frank Tilly e lo metto in bellissimo lo metto in bellissimo lo metto qua no qua qua sì lo metto lì perché effettivamente tra i tre libri di Tilly e di questa trilogia è quello che mi è piaciuto un po' meno però merita comunque il bellissimo poi allora La maledizione della torre onestamente questo libro io me l'ho dimenticata di inserirlo nei bocciati perché l'avevo proprio rimosso sono onesta però sinceramente lo metto in è ok verso la fine perché la storia non è brutta ci sono delle cose che non me l'hanno fatta apprezzare in particolare il finale un po' campato per aria neanche troppo comprensibile cioè quello che poi ho letto anche nelle varie recensioni è che in pochi hanno capito il finale e quasi non c'è la spiegazione a tutto ciò che è successo ecco però la storia è anche godibile lo metto in è ok però proprio alla fine perché non è neanche un non sei tu sono io è proprio la questione che non secondo me ci sono state delle cose che non andavano in quel libro però alla fine comprendo che a qualcuno potrebbe piacere Eleanor Oliphant sta benissimo anche qui lo metto in è ok all'inizio perché effettivamente è un libro che parla di problemi psicologici di una ragazza che ha avuto un passato traumatico che non ci racconta all'inizio perché così almeno rimaniamo agganciati alla storia però boh non so se metterlo in è ok o in bello perché effettivamente no rispetto a quelli che ho messo in bello lo lascio in è ok perché ho fatto un po' fatica comunque l'ho ascoltato in audiolibro e non mi ha agguantato membrana di Citaway qua dove ti metto qui un distopico veramente scioccante il finale di questo libro mi ha veramente lasciato a bocca aperta assolutamente inimmaginabile molto bello Carmilla top della vita altro top della vita lo metto qua Carmilla lo stesso è stata una storia di vampiri al femminile veramente meravigliosa anche qui io valuto questa edizione che è un'edizione illustrata fatta magnificamente dalla Rebelle Edizioni ma soprattutto priva di prefazione la prefazione io l'ho ascoltata in audiolibro ed effettivamente non è nulla di che se ci mettete invece solo la storia di Carmilla il libro viene una meraviglia cioè senza il contorno secondo me è meraviglioso poi La carne di Emma Glass bellissimo sconvolgente un libro molto crudo crudele violento che praticamente usa la violenza carnale vista attraverso su un filtro in cui tutte le persone tutte le cose sono dei cibi infatti la ragazza che subisce violenza è vegetariana ed è una pesca l'uomo che le fa violenza è un uomo fatto di salcicce crudissimo veramente molto molto breve ma che ti colpisce dritto allo stomaco bellissimo Malpertuis viene classificata come una storia di fantasmi in realtà il finale si riprende infatti all'inizio è molto confuso ci sono delle passa da scene molto tranquille a scene estremamente nevrotiche quasi oserei dire e quindi rimane un attimo spiazzato però alla fine capisci tutto bello bello qua qua sì è bello la biblioteca di mezzanotte allora io so che molti sono sconcertati da questa cosa ma a me la biblioteca di mezzanotte ha toccato tantissimo come libro e lo metterei qua top della vita a me è piaciuto tanto null'altro da dire mi ha proprio lasciato qualcosa questo libro mi ha proprio lasciato il fatto che a volte dobbiamo semplicemente essere in grado di prenderci le nostre responsabilità e di prendere in mano la nostra vita anche perché quando ci capita di dire cose del tipo se avessi fatto se avessi detto poi spesso e volentieri non ci rendiamo conto che a volte fare aver fatto o meno una scelta diversa non comporta comunque il fatto che la nostra vita poi sia diventi magicamente la vita perfetta o quella ideale per noi allora vediamo se riesco a rimpicciolire un po eccolo qua allora ho rimpicciolito un po la situation per vedere meglio perché qua però siamo sempre punte a capo no niente torno come prima perché tanto comunque sia siamo sempre punte a capo sì perché lo stringe anche quindi non ha senso niente dovrò andare a pescare i libri poi da sotto perché io qua vedo The Turnaglass che lo voglio mettere in bellissimo è stata un'esperienza di lettura veramente accattivante e lo metto qua ora non si vedono più i libri sotto Pinocchio Pinocchio lo metto in è ok a me non è che ha fatto proprio impazzire Pinocchio come storia ma sono io il problema cioè proprio a me non è piaciuta tanto persone normali lo metto in bellissimo e lo posiziono qua qua lo so che molti non sono d'accordo con questa mia affermazione ma a me persone normali è piaciuto non so che altro dirvi sì è una storia di tira e molla però non riesco a classificarla come romance perché è una storia tanto particolare di due personaggi che ho trovato estremamente umani con tantissimi difetti ed estremamente affini alla mia generazione che è quella del millennial che non posso fare a meno di di apprezzarlo ecco Sally Rooney secondo me è stata molto brava a classificare la nostra generazione allora poi vertigine di Tilly dove lo infilo? io lo metterei in bellissimo ma alla fine perché il finale non mi è piaciuto però non posso fare a meno di riconoscere il fatto che sia un finale geniale cioè il fatto che se tu noti un particolare alla fine il finale è in un modo se non lo noti il finale è un altro io il finale il particolare finale l'ho visto però ho dovuto chiedere spiegazioni a qualcun altro per dire ma sto capendo male io o è così diciamo che il finale è stato un po' un cliché alla fine per chi vede il particolare rido io rido allora al di là del fatto che ha messo tantissimi libri bocciatissimi alla fine ma vabbè io mi dispiace mi dispiace voi non capite che cos'è adesso da qua ma è la nausea di Sartre non sei tu sono io non ce la faccio a metterlo non sei tu solo io perché l'ho odiato profondamente io questo libro non riesco veramente a capire il perché piaccia posso essere onesta cioè da una parte se me lo spiegano lo capisco ma io non riesco ad apprezzarlo per niente quindi per onestà intellettuale dovrei metterlo in non sei tu sono io ma non ce la faccio non ce la faccio per me è stato veramente una delle letture più pesanti dell'anno come ci metto anche The Hall no Maria io esco cioè The Hall un thriller che dovrebbe essere un thriller ma che è un libro che non ha senso secondo me quindi per me questi tre sono no Maria io esco ce n'è anche un altro anzi altri due ce n'è da infilarci e quindi niente però devo dire che questi libri qua per me sono stati veramente un'agonia da leggere poi e alla fine muoiono bellissimo bellissimo un fumetto che ci lo metto all'inizio inizio perché effettivamente è un fumetto che ci racconta la storia di come nascono le fiabe di Lulubier meraviglioso estremamente divertente infatti l'ho letto in due giorni nonostante sia abbastanza spesso anche come libro però vabbè è un fumetto quindi tutto sommato e ci racconta anche la versione delle fiabe originale quella magari modificata e come è stata modificata in base alla nazione molto molto carino veramente bello ve lo consiglio poi a occhi chiusi di Paola Hawkins no Maria io esco no Maria io esco non ci metto neanche una categoria perché non saprei dire quale è peggio tra questi libri qua perché veramente io non capisco il senso di questo thriller cioè non capisco perché la Hawkins abbia fatto uscire una cosa tanto breve ma altrettanto insulsa Kill Creek Kill Creek lo metto in è ok è ok però ma non lo so sapete cioè non riesco a perché non posso metterlo in paragone comunque con altri libri che ho messo qua no facciamo così allora questo lo metto in bello nel senso che è comunque un libro che consiglierei sono onesta manuale di caccia e pesca per ragazze magari alla fine Kill Creek invece lo metto in è ok ma lo metto alla fine qua perché è un horror che secondo me l'ha tirata un po' troppo per le lunghe tutto qua cioè è stato estenuante come lettura però tutto sommato non era malaccio quindi sì lo metto lì poi la sirenetta la sirenetta lo metto in bellissimo mi è piaciuto un sacco questa edizione qua qua c'è solo la storia della sirenetta rispetto alla sirenetta che ho messo qua di Mina Lima questo è quello illustrato dalla Combe tuttavia quello che mi è piaciuto di più rispetto all'altro è che qua ci sono anche le lettere dell'autore che ci fa capire il perché della nascita della storia della sirenetta quindi questo mi è piaciuto decisamente di più sì ma anzi lo posiziono quasi quasi lo metto qua sì poi la nonna casa di Libardugo bellissimo bellissimo lo metto prima dell'occhio del gufo perché effettivamente qua siamo su un fantasy dark academia molto dark che sfocia nel thriller quindi mi è piaciuto un po' di più la zona morta bello la zona morta di Stephen King bello non è tra i migliori che ho letto suoi lo potrei mettere qua è stata una storia carina devo dire sì trilogia della città di K bellissimo trilogia della città di K veramente bello e lo posiziono però qua non è tra i migliori che ho letto cioè trilogia della città di K mi ha colpito tantissimo all'inizio però verso il finale mi ha un po' lasciato cioè io l'ho capito tutto nel senso che io sono abbastanza certa che le cose che ho capito le ho capite bene sono quelle però non lo premio di più perché ci sono stati semplicemente dei libri che ho apprezzato di più banalmente però mi è piaciuto molto crudo molto crudo molto violento però bello lo consiglierei tranquillamente a persone non troppo sensibili siamo alla fine allora bellissimo il magico potere del riordino lo metto in bellissimo perché effettivamente ha un suo senso questo libro lo metto alla fine io l'ho ascoltato in audiolibro ed è un libro che in realtà ho riascoltato perché lo ascolto ogni volta che voglio spronarmi a fare un po' di decluttering a fare pulizie e funziona sempre quindi fa il suo dovere poi e poi ci sono io anche questo lo metto in bellissimo lo metto in bellissimo qua e poi ci sono io è una storia molto toccante di una ragazza che ha problemi di autolesionismo che si fa del male a causa della sua vita e della sua rinascita se vogliamo dire così relazioni tossiche insomma c'è un po' di tutto in questo libro e devo dire che però è stato molto efficace perché ci ha raccontato le cose in maniera molto schietta ma anche abbastanza delicata portandoci nella testa di questa ragazza bello l'uomo che scambiò che scambiò sua moglie per un cappello bello bello lo metto qua è una praticamente una raccolta di casi clinici che si è trovato davanti Oliver Sacks io non sono tanto per queste cose però devo dire che è stato abbastanza interessante ci sono soprattutto delle cose che mi hanno lasciato abbastanza bocca aperta quindi bello una cosa divertente che non farò mai più non sei tu sono io lo metto all'inizio perché capisco chi ha apprezzato questo libro sono proprio io che non so perché l'ho letto cioè io dovevo aspettarmi di leggere un reportage di una crociera ed è effettivamente quello che ho letto però me lo aspettavo più divertente cioè mi ha un po' deluso non so perché mi aspettavo di più ma è un problema mio nel senso che effettivamente quello che ho letto è coerente con ciò che doveva essere il libro quindi è proprio un problema mio lo riconosco La bella e la bestia La bella e la bestia lo metto in bellissimo a me è piaciuto tanto è inutile è un beautiful delle fiabe verso la fine perché dopo aver letto la storia più o meno come la conosciamo c'è la parte di spiegone che di solito a me non piace ma in questo caso si è rivelato illuminante per capire come si è svolta tutta la vicenda di come il principe è diventato una bestia eccetera eccetera ma ragazzi ma veramente beautiful beautiful delle fate non me lo aspettavo lo metto qui sì lo metto prima di il magico potere del riordino perché insomma sì vabbè mi sembra il posto giusto il manoscritto bellissimo il manoscritto bellissimo e lo metto qua allora no in realtà lo posso mettere anche qua nel senso che io non l'ho messo nel video dei preferiti perché ho preferito labirinti però effettivamente il manoscritto di Tilly è stato veramente un libro molto molto bello da leggere indubbiamente è stata una storia che ha dato il via appunto alla trilogia ma con un finale aperto che poi ci ha portato a tutti gli altri libri bello 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 ora a volte ritornano bello a volte ritornano di King lo metto bello ma lo metto in fondo è una raccolta di raccolti di King che non mi ha fatto impazzire per il semplice fatto che purtroppo per quanto mi riguarda King scrive talmente bene che io vorrei sempre saperne di più riguardo le storie che ci racconta e leggere le raccolte di racconti brevi per me non è soddisfacente però è un bel libro oh l'enigma della camera 622 no Maria io esco Joel Dicker con questo libro per me è proprio toppato cioè non ci siamo proprio un libro deludentissimo insulso secondo me come storia personaggi che sono delle macchiette ma che più macchiette di così non si piova veramente no assolutamente no questo libro non mi è piaciuto per niente poi so che sembra che lo faccia opposta perché non ci sono più spazi ma in realtà io questo lo devo mettere in non sei tu sono io che è per questa stessa rugiada di Claudia Grande potrei metterlo anche in è ok però per me non è ok questo libro nel senso che non ve l'ho messo nei peggiori dell'anno perché non se lo meritava però ci sono diverse cose che non mi sono piaciute all'interno di questo libro ma più semplicemente io non amo i romance e questo è un romance è un problema non posso essere oggettiva con questo libro non mi è proprio piaciuto il genere capite quindi no non sei tu sono io perché non posso metterlo nei bocciati ma non posso neanche metterlo in è ok poi gli ultimi due libri in realtà io li devo mettere tutti nella stessa categoria categoria dove non ci sta più una mazza allora questo anima lo devo mettere in scusate ora arrivo lo devo mettere in top della vita uno dei libri più crudi e violenti che io abbia mai letto ma indubbiamente uno dei migliori sono indecisa lo dovrei un po' risistemare perché forse Shining non lo metterei qua Shining lo metterei qua sì anima labirinti allora no labirinti per primo perché mi è piaciuto un sacco ma mettiamoci pure una vita come tanto no qui scusate sto facendo un po' di cambiamenti sì anima lo metto al quarto posto no qua Murata Sayaka ma proprio stupito quindi qua labirinti sono soddisfatta sì sono soddisfatta adesso anima lo metto al quarto posto perché è una storia che mi è piaciuta molto però ci sono delle scene raccontate all'interno di questo libro che si sono fissate nel cervello e che non vanno via e che quando mi tornano in mente mi fanno molto male vi dico la verità so che non sono l'unica a cui è successa questa cosa ma è così è così però la storia secondo me merita di essere letta per chi soffre di una sensibilità particolare ma neanche no per esempio se avete letto la trilogia della città di K e già siete rimasti traumatizzati da quello anima lasciate perdere perché veramente se no mi andate in analisi però se non siete sensibili e ve la sentite leggetelo perché è una storia che merita tantissimo scritta in un modo particolarissimo ed estremamente riuscito secondo me e nient'altro da dire bello bello terribile Coraline Coraline io lo dovrei infilare aspettate io lo dovrei infilare in top della vita allora l'ho rimpicciolito un po' e così riesco a metterlo dove vorrei infilarlo Coraline per me è top della vita non ci posso fare niente è una storia che mi è sempre piaciuta sia nella versione cinematografica quindi quella fatta da Tim Burton sia letta è una storia bellissima e quindi niente io lo metto nel top della vita perché non posso fare a meno di consigliarla e questa quindi è tutta la visione della mia tier list del 2023 ho letto in totale 101 libri quest'anno e devo dire che sono molto soddisfatta perché ho letto tanti libri molto molto belli appunto alcuni sono entrati nel top della vita lo so che per molti magari ne ho messi troppi in top della vita ma non posso farci niente per me questi libri qua che vi ho inserito sono veramente bellissimi e forse forse potrei toglierne uno l'ultimo George Orwell metterlo in bellissimo ma non credo che lo farò perché ripeto comunque mi ha segnato come libro quindi nient'altro da dire molto molto soddisfatta già il fatto che anche solo la categoria è ok sia così scarna e che comunque sia anche i libri che ho messo in bello siano comunque dei libri che hanno meritato secondo me è una cosa di cui sono molto molto felice ecco quindi io dovrei in teoria adesso fare un portrait image dovrei fare una specie di download o una foto non so come si fa però oddio allora se faccio download cosa succede più che altro perché non vorrei cancellare tutto allora facciamo così io me la lascio un attimo qua così almeno ci posso fare poi dal programma di montaggio la foto e quindi già così sono contenta e adesso niente me lo studio cerco di capire come faccio a farci la foto e così almeno ve la lascio comunque per poter vedere tutti i titoli e farvi anche una foto voi uno screenshot quello che volete niente detto questo noi ci vediamo al prossimo video grazie mille per essere rimasti con me per questa ora e mezza credo spero di non aver superato le due ore e nulla fatemi sapere tutto quello che volete come sempre qua sotto nei commenti anche cose che vanno contro le mie opinioni è sempre tutto ben accetto qui sotto ai miei video nulla noi ci vediamo la prossima volta e fino ad allora buona lettura a tutti ciao allora mo come cacchio si fa ok interrompiamo la registrazione vediamo che ci sia tutto famme vedere e Ok, ok.